Ciao, benvenuto a questo nuovo appuntamento degli approfondimenti. Oggi vorrei parlare con te di un tema importante della meditazione, un tema che ho già affrontato in diversi video che trovi sul mio canale YouTube o nel podcast. E in particolare vorrei parlare con te del perché alle volte facciamo così tanta fatica a iniziare a meditare. Perché meditare risulta spesso a essere una pratica così difficile da portare avanti con costanza nella nostra vita. Molte persone vengono da me e mi chiedono come poter imparare a calmare la mente, come poter imparare a gestire l'ansia, lo stress, come imparare a disattivare tutti quei meccanismi, quegli automatismi che spesso le spingono poi a trovarsi nelle stesse situazioni nella vita. E la pratica che in assoluto sempre mi sento di consigliare, perché è stato dimostrato da tantissima ricerca scientifica, veramente come una delle pratiche più importanti per riuscire ad affrontare questi temi, è la mindfulness, è la pratica di consapevolezza. Eppure quando le persone iniziano a praticare, pur riconoscendo l'importanza di questa grande pratica, si trovano a fare fatica, si trovano a incontrare difficoltà, con la conseguenza di un grande scoramento, uno scoraggiamento, una sensazione di inadeguatezza, un dubbio rispetto al fatto che quella pratica in particolare possa fare per loro, possa andare bene per loro. Allora, ecco, in questo incontro degli approfondimenti vorrei spiegarti meglio il perché alcune persone in particolare fanno così tanta fatica a iniziare a praticare. La risposta in realtà è semplice, per essere compresa è necessario conoscere un po' di neurofisiologia, bisogna un po' addentrarsi nel mondo affascinante, assolutamente interessante delle neuroscienze. Vedi, anche di questo ho già parlato in altri video, ma qui in particolare ti spiegherò come mai il nostro cervello oppone in qualche modo una resistenza forte alla pratica meditativa in alcune persone. Il motivo è molto semplice, vedi, il nostro sistema nervoso è un organismo vivente che ha come caratteristica fondamentale quella che tanti altri organismi condividono, ovvero la capacità di apprendimento. L'apprendimento è una facoltà fondamentale di tutti gli esseri viventi. Grazie all'esperienza noi apprendiamo. Ma che cos'è che apprendiamo? Apprendiamo solamente dei concetti, apprendiamo solamente delle procedure? È qualcosa di così, sono pensieri, sono sensazioni, sono... che cosa sono questi apprendimenti? Ecco, da un punto di vista neuroscientifico, neurologico, questi apprendimenti sono il risultato di modificazioni che avvengono costantemente a livello proprio cellulare all'interno del nostro sistema nervoso. le esperienze che noi facciamo vanno a generare quelli che noi chiamiamo dei pattern di attivazione neuronale, delle reti, delle connessioni, dei gruppi di neuroni che insieme si vanno ad attivare. E questo avviene in tutto il nostro sistema nervoso, in tutto il nostro corpo. Le esperienze che facciamo globalmente ci vanno ad attivare su diversi livelli, a livello quindi neuronale, pattern di attivazione neuronale, a livello ormonale, a livello del sistema immunitario. Tutti i nostri sistemi insieme si attivano con una particolare configurazione in base alle specifiche situazioni, circostanze della nostra vita. Ecco, questa attivazione reiterata nel tempo, quindi vissuta un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, mesi, anni, va a strutturare ciò in cui poi noi andiamo ad identificarci. Cioè va a strutturare il nostro pensiero, le nostre emozioni, le nostre procedure, i nostri automatismi. Va a strutturare il nostro corpo ad un livello che forse è invisibile, nel senso che apparentemente noi vediamo le persone esteticamente, vediamo che hanno un corpo, bene o male, ecco, simile per ciascuno. Abbiamo tutti due occhi, due gambe, due braccia. E questo è quello che vediamo superficialmente. Però ecco, all'interno del nostro corpo, l'esperienza che noi viviamo, va a generare tutta una serie di strutture che si vanno a specializzare sulla base delle funzioni che noi svolgiamo nell'arco della vita. Ecco, questo è un principio fondamentale che va compreso. Oggi conosciamo questi meccanismi sempre di più, conosciamo questo grazie all'apnea, alla psico-neuro-endocrino-immunologia, che ha studiato come questi sistemi vanno a lavorare insieme. Lo sappiamo, ti dicevo, grazie alle neuroscienze, allo studio che abbiamo fatto grazie a strumenti come la PET, la risonanza magnetica funzionale, che ci hanno permesso di vedere i cervelli in movimento, come funzionano. Sappiamo questo grazie agli studi sempre più approfonditi sulle microfunzioni che costantemente si attivano nel nostro organismo. Ecco, grazie a queste conoscenze, noi oggi possiamo dire con certezza che l'esperienza che noi viviamo ci modifica. Un altro settore di studio di cui ho già parlato in altri video molto importante è tutto lo studio sull'epigenetica, dal greco ciò che sta sopra i geni, quei marcatori chimici che noi andiamo a generare, soprattutto se visto sulla base delle nostre emozioni, che vanno di fatto a decidere la trascrizione dei nostri geni. Ecco, tutte queste esperienze che noi viviamo ci vanno a strutturare, vanno a creare in noi degli apprendimenti che hanno un correlato fisico fondamentale, che permette a questi stessi apprendimenti di esistere. Ok? Quindi è legato al nostro corpo. Il nostro corpo è un contenitore dell'esperienza e contiene l'esperienza modificandosi in base ad essa. La traccia dell'esperienza sono proprio queste modificazioni nel nostro corpo. Ora, compreso questo, comprendere perché facciamo fatica a meditare dovrebbe essere scontato. La questione è che se per una vita, se per 20, 30, 40, 50, 60 anni ho passato la mia esistenza a funzionare in un certo modo, per esempio costantemente a ruminare su ciò che è stato, a rimuginare su ciò che è, su ciò che sarà. Se ho passato la mia esistenza costantemente a permettere all'ansia di prendere il sopravvento nei miei pensieri, nelle mie emozioni, nelle mie dinamiche relazionali. Se costantemente ho permesso a pensieri debilitanti, a cognizioni negative rispetto a me stesso, di determinare le mie azioni. Ecco, se nell'arco della vita, più e più volte, ho permesso a queste sensazioni, pensieri, stati d'animo di reiterarsi nel tempo, andando a portarmi a vivere condizioni che percepisco come fonte di sofferenza. È normale che nel momento in cui io andrò a contrapporre ad esse uno stato della mente, che è quello classico della mindfulness, mindfulness viene tradotto generalmente come pienezza della consapevolezza mentale, uno stato di coscienza in cui siamo nel non giudizio, siamo nella sola e semplice presenza consapevole, al di là dei pensieri, al di là degli stati d'animo, semplicemente qui e ora, nel presente, in ciò che è. È chiaro che ecco, contrapporre questo stato di coscienza, questo stato dell'essere, con quelle che sono invece apprendimenti, stati d'animo, sensazioni che ho accumulato nel corpo e quindi nella mente per una vita intera, può generare resistenza. È normale. Ancora la ricerca scientifica ci viene in aiuto però e ci dimostra come basta relativamente poco per avviare dei processi di cambiamento. In realtà già dopo poche ore di pratica meditativa si iniziano ad osservare dei cambiamenti elettrochimici nel nostro sistema nervoso che, protratti nel tempo, settimane, qualche mese, vanno a modificare quella che è la nostra struttura. Cambiamenti che, come dicevo, oggi possiamo studiare, grazie alla PET, alla risonanza magnetica funzionale, cambiamenti che ci dimostrano che il nostro cervello cambia. In realtà non solo il cervello, dicevo anche il sistema ormonale, anche quello immunitario. Il cortisolo diminuisce, migliorano le nostre funzioni immunitarie. Allora, la pratica meditativa ci cambia, ci trasforma, portandoci verso uno stato dell'essere che, oggi la ricerca lo ha dimostrato ampiamente, ci fa stare meglio, ci fa resistere di più a virus, a batteri, ci rende più forti, aumenta la nostra memoria, aumenta la nostra calma, riduce l'ansia, riduce lo stress, riduce stati depressivi. Chiaramente all'inizio troverò resistenza, ma perché è normale, se ho una locomotiva che sta continuando ad accelerare, noi continuamente buttiamo carbone in questa grande continua, 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 è normale che non basterà smettere di mettere carbone, smettere di dare carburante, smettere di dare propulsione. Bisognerà avere anche la pazienza che l'inerzia della locomotiva vada a diminuire. Ecco, lo stesso vale nella pratica meditativa. Se per molto tempo ho generato in me stati ansiosi, stress, iperattivazione, sregolazione dei cicli sonnoveglia, è normale che iniziando a praticare io venga bombardato da tantissimi pensieri. È normale che la mia attenzione faccia una gran fatica a stare nel qui e ora. È normale che dopo due, tre giorni che magari mi sono impegnato a praticare, io perda completamente la voglia di farlo. Perché non sono abituato, perché il mio sistema nervoso, il mio corpo non ha ancora generato quei processi, quelle strutture che mi permettono di mantenere quello stato di coscienza. Ma continuando a praticare il mio corpo cambia, continuando a praticare la mia mente cambia, continuando a praticare oggi abbiamo evidenze di come tutto il nostro sistema cambi, portandoci a stare meglio. Portandoci davvero a migliorare su tantissimi livelli, perché migliorano quelle funzioni fondamentali, trasversali ai diversi campi della vita, al lavoro, nelle relazioni affettive, con noi stessi, nello sport, nello studio. Se io sono più concentrato, più presente, più attento. Allora io divento più capace, più presente, più attento nei tanti ambiti della mia vita. Però ecco, in conclusione, ciò che conta all'inizio è rendersi conto che le resistenze che noi incontriamo non sono altro che il frutto degli apprendimenti precedenti. E al pari di quando ci dobbiamo impegnare perché vogliamo dimagrire, allora iniziamo ad andare in palestro, a camminare, a correre, a nuotare, al pari di quando ci dedichiamo a una qualsiasi attività che dobbiamo imparare a svolgere nella vita, allo stesso modo, nella pratica meditativa, dobbiamo darci il tempo di apprendere, dobbiamo darci lo spazio, il tempo di sviluppare competenza, conoscenza, esperienza, di consolidare dentro di noi delle strutture che una volta consolidate ci permetteranno di fare le cose con estrema naturalezza. Pensa a quando hai imparato a guidare l'auto, a leggere, a scrivere, a mangiare. Tutti apprendimenti, se ci pensi, estremamente complessi. Il linguaggio, apprendimenti molto complessi, che però oggi ti vengono del tutto naturali. Alcuni appresi quando si era bambini, quindi automatizzati facilmente, altri appresi successivamente. Prova a imparare a parlare una nuova lingua. Quanto è difficile all'inizio. Però poi, con calma, lentamente, finché a un certo punto diventa naturale. Ecco, lo stesso vale esattamente per la pratica meditativa. E il risultato, ciò che si può ottenere, è davvero un tesoro inestimabile.